Bene, è la volta della presentazione di un altro musicista locale, Pietro Paolo Andrucci. Aggregandosi al gruppo Alamini, offrendo la sua professionalità, studia la... studia al conservatorio di Avellino ed è prossimo al termine di agosto 2013, ha partecipato al concorso nazionale italiano per organetto, risultando il primo classificato. Lo scottiamo con la sua fisarmonica nell'interpretazione di alcuni famosi brani musicali, Play of Love, cinema in paradiso, musiche dal film di Ennio Morricone. La vita è bella di Nicola Piovanni, dall'autonomico film Libertanico di Astor Piazzola. E per voi, Pietro Paolo Andrucci. E per voi, Pietro Paolo andrucci. E per voi, Pietro Paolo andri, la vita è la sua fisarmonica. E per voi, Pietro Paolo andrucci. E per voi, Pietro Paolo andrucci. Per voi, Pietro Paolo e il perdono. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.